Il quadro che voi vedete sta oggi a Parigi, è stato realizzato da un pittore francese poco dopo la metà dell'Ottocento, il suo titolo è Olympia. Quello che voi vedete è un quadro da museo, nel senso che vi aspettate che un nudo del genere dipinto in questo modo con la retorica e la qualità della pittura che noi oggi gli attribuiamo e riconosciamo in esso, sia un quadro pensato per una vita lunga e importante, appeso nelle pareti di un illustre museo parigino. Eppure questo quadro fu il più grande scandalo di un secolo, nell'Ottocento. Lo scandalo relativo a questo quadro fu uno scandalo di tipo, prima di tutto, contenutistico. Tutti coloro che al Salon del 1865, quando Mané lo espose, lo videro, riconobbero in un nudo di queste proporzioni e di queste dimensioni una prostituta professionale, che per le convenzioni pittoriche di quell'epoca non era un soggetto rappresentabile e non era soprattutto un soggetto rappresentabile attraverso dei codici che rimandavano al grande nudo allegorico e al grande nudo di tipo mitologico della tradizione rinascimentale. Questo era un nudo tollerato, uno dei nudi amati dal pubblico dei Salon parigini degli anni Sessanta. Piacque molto a Napoleone III, fu acquistato dal giurì del Salon e oggi al Museo d'Orsay è possibile vederlo, appeso, non lontano, dall'Olympià di Mané. È il quadro di un pittore ufficiale, accademico, si chiama Alexandre Cabanel. Il nudo, come vedete, è più erotico, quasi più provocatorio rispetto al nudo manettiano. La torsione delle anche è più esplicita, il gesto di offerta del corpo è più carico di sovrasensi, di ambiguità. Il gioco era però quello di rimandare una scena non contemporanea, quella della nascita di Venere, in un'altrove, in un mondo lontano, che era il lontano nel passato e anche geograficamente lontano. Nel caso dell'Olympià ci trovavamo di fronte ad una professionista contemporanea, una prostituta di alto bordo, che riceveva il dono di un cliente, che poteva permettersi di avere a sue spese una negressa, una nera che le portava e che governava la casa, e che poteva avere una serie di elementi, dal bracciale alle ciabatte di lusso, alla orchidea puntata sui capelli, che denotavano il suo status sociale di professionista in ascesa nel mercato della prostituzione parigina degli anni Sessanta. Ma il problema dello scandalo dell'Olympià non è solo legato al soggetto e non è neanche legato alla pittura. Se noi leggiamo le recensioni del tempo tutti parlano con scandalo, con orrore, con fastidio, di stesure troppo piatte, di un incarnato troppo bianco. Qualcuno dice che sembra un cadavere tirato fuori dalla morgue, dalla camera mortuaria dell'ospedale parigino. Questo stile di rappresentazione del corpo è uno stile che aprì decisamente verso l'arte moderna, lo stile in cui non si allude più alla presenza di un oggetto tridimensionale, con le tecniche del chiaroscuro velato, dell'arte del rinascimento. La pittura allude a se stessa, le stesure piatte alludono alla identità stessa della pittura, dimostrazioni di superficie. Il vero, la vera chiave di scandalo di questo quadro e la vera provocazione che Duarmane fece fu quella di ribaltare, di carnevalizzare, di caricare di un senso diverso e fortemente contemporaneo un modello che era implicito negli occhi di tutti. Il quadro più amato della pittura rinascimentale durante l'Ottocento francese, il quadro più copiato dagli giovani studenti che da Parigi venivano in Italia per studiare l'arte del rinascimento, era un quadro che stava nelle collezioni granducali di Palazzo Pitti ed era la Venere di Urbino di Tiziano. La Venere di Urbino è un nudo, un nudo rinascimentale, in cui viene dipinta un tema mitologico, però ambientato, come vedete, in un interno domestico della nobiltà veneziana del Cinquecento. La Venere di Urbino è di fatto un'allegoria della fedeltà coniugale. La donna tiene in mano un certo di fiori, vela il pube con la mano, sul letto ci sta un cagnolino, simbolo di fedeltà, sul fondo sono collocate le serventi di case nell'atto di riporre la biancheria. Una donna del Cinquecento che aveva fatto un matrimonio molto importante, che governava e sovrintendeva la casa, che alludeva alla sua fedeltà e alla sua fecondità, che dimostrava in modo esplicito qual era la sua condizione sociale. Avvicinando i due quadri, confrontando i due quadri, si vede molto bene cosa Manet abbia fatto. ha preso un modello che rappresentava la alta pittura del Cinquecento, un modello che veicolava una serie di sottosensi molto espliciti, la fedeltà, l'erotismo casalingo, il possesso dei beni, il giusto governo del possesso dei beni e li ribaltava in una condizione contemporanea che era radicalmente diversa. L'amore fedele diventa prostituzione professionale, le serventi non si occupano più dei beni di casa, ma portano i doni dei clienti prossimi venturi al cagnolino, simbolo di fedeltà, viene sostituito e lo si vede appena appena in questa riproduzione, il gatto, simbolo di lussuria ma anche simbolo delle nuove passioni per gli animali domestici che nelle case di alto bordo del settimo, del quattordicesimo rondisman parigino cominciavano ad affollarsi. Manet non era nuovo a questo genere di provocazione. Prendere un modello tradizionale, importante, antico, riconosciuto nella sua altezza, nei suoi valori, e riportarlo in una condizione moderna, in una condizione contemporanea. Era stato Charles Baudelaire a dire che bisogna essere del nostro tempo, il for etro del nostro tempo. Non c'è più la possibilità di crearsi mentalmente o visivamente degli altrove, dei luoghi in cui in qualche modo sigillare il nostro essere contemporanei, mettere in sospensione il nostro essere contemporanei. Due anni prima, nel 1863, era stato rifiutato al Salon, era stato appeso in una specie di camera degli orrori, il Salon degli artisti rifiutati, questo quadro intitolato La colazione sull'erba. Oggi noi lo vediamo appeso a dorsè a pochi metri da Olimpia e ci sembrano due capolavori, due capolavori di pittura, come dire, molto lavorata, molto densa, con un significato anche proprio di riflessione sul senso interno della macchina pittorica, il rapporto tra i toni e i colori, i rapporti tra il primo piano e il fondo. All'epoca questo quadro fu considerato non degno di essere appeso ad una mostra ufficiale. I motivi furono i soliti, insomma, non c'è modellazione nella figura della donna che posa in primo piano, anche qui non un'allusione ad una nudità naturale, ma al gesto artefatto e faticato di una modella professionale. Ma la vera chiave, insomma, dello scandalo e della provocazione di questo quadro fu che Edouard Manet prese quello che era considerato il capolavoro assoluto all'ouvre della pittura cinquecentesca, il concerto campestre che allora era attribuito a Giorgione, che adesso viene dato al tiziano giovane e veniva riletto in una chiave apertamente contemporanea. Il concerto campestre era considerato uno degli esempi in cui l'amicizia, l'amistà tra corpo e natura, tra figura umana e contenitore spaziale aveva trovato il suo punto più alto. I musicanti parlavano tra di loro, una donna eseguiva una partitura al flauto, un'altra donna, non si trattava di idee, ma di donne nella campagna veneta del Cinquecento, attingeva una brocca d'acqua ad una fonte. Nel caso di Manet siamo di fronte invece ad un loasir, ad un divertimento pomeridiano di studenti un po' debociati. Siamo di fronte insomma ad un divertimento illecito, uno studente di legge e uno studente di medicina, hanno chiamato due prostitute, hanno fatto un partou, una sorta di divertimento pomeridiano, le donne si sono spogliate, le prostitute si sono spogliate, una sta bagnandosi sul fondo del quadro, c'è una meravigliosa e inutile dal punto di vista della coerenza del soggetto, natura morte sul primo piano. La natura morte è dipinta come nella grande tradizione seicentesca, i quadri, le figure sono dipinte con l'esattezza e la secchezza dell'apparato fotografico, il fondo è dipinto con la negligenza e la falsità di un fondale della fotografia che veniva posto, insomma, negli interni fotografici dell'epoca. Una pittura non naturale ma forzata, artificiale, che addirittura metteva in ridicolo, capovolgeva quello che era uno di quelli che erano i riferimenti più alti dell'apprendistato artistico del tempo. L'incisione più copiata, copiata in accademia, l'incisione considerata in qualche modo il capolavoro del tecnico dell'incisione cinquecentesca, era un soggetto raffaellesco, ripresa d'incisione da Marcantonio e Raimondi, un giudizio di Paride. Nell'angolo a destra, i tre fiumi erano considerati uno degli esercizi di composizione più praticati e più ammirati all'Ecole des Beaux-Arts del tempo. Quando noi prendiamo questo esercizio di composizione, lo ribaltiamo in una condizione bassa, caricaturale, contemporanea, facciamo un'operazione che mette in crisi lo statuto stesso della pittura e le gerarchie dei generi. Siamo di fronte ad una caricatura della vita contemporanea, la trattiamo con l'altezza dei modelli cinquecenteschi, ma la rappresentiamo con un codice di attenzione, di attenzione alla contemporaneità, di sottolineatura di dati contemporanei, che mette in crisi uno dei dati fondativi, statutari della pittura dell'Ottocento, cioè l'incomunicabilità tra i generi. Il quadro di vita moderna, il quadro di genere contemporaneo, non poteva confrontarsi con i grandi generi del passato, ma ne fa scoppiare questa condizione, in qualche modo mina alla base questa condizione e lo scandalo nasce, la non accettazione dell'opera, ma anche tutte le discussioni e tutti i lazzi che vengono scritti intorno all'opera nasce dalla percezione precisa che questo confine tra i generi è stato definitivamente fatto saltare.